Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a capire che cosa si intende per la diagnosi precoce di un tumore e faremo qualche cenno riguardo le terapie antitumorali. Ti consiglio se non l'hai ancora fatto di vedere il video precedente in cui abbiamo analizzato tutti gli aspetti dei tumori e la loro prevenzione. La diagnosi precoce ha l'obiettivo di scoprire il tumore nelle sue fasi iniziali quando questo è più facile da eliminare. Una volta avvenuta la trasformazione la proliferazione cellulare non è immediata infatti all'inizio procede abbastanza lentamente e soltanto quando la massa tumorale ha raggiunto una certa dimensione il tumore si sviluppa velocemente invadendo i tessuti e gli organi circostanti. Si capisce allora che un tumore è evidente è in realtà insorto ormai da parecchio tempo. Purtroppo in molte persone vi è la convinzione che i tumori siano delle malattie inguaribili e che una diagnosi di tumore significhi inevitabilmente una diagnosi di morte certa ed è per questo che di solito si tende a rimandare al più tardi possibile qualsiasi indagine volta alla loro identificazione. In ogni caso la diagnosi precoce è molto utile e i medici hanno individuato 7 segnali d'allarme tipici del tumore. Tra queste si hanno dei cambiamenti nelle abitudini intestinali quindi frequenti fasi di diarrea e stitichezza alternate, ferite che non guariscono se non dopo lunghissimo tempo, emorragie ingiustificate, noduli o indurimenti nella mammella o in altre parti del corpo, improvvisi problemi nella digestione o nella deglutizione, modificazioni evidenti di un neo oppure tosse o raucedine persistenti nei fumatori. Naturalmente questi sintomi compaiono anche in molte malattie che non hanno niente a che fare con i tumori, addirittura possono comparire in persone del tutto sane. Tuttavia quando uno o più di questi segnali si presenta insistentemente e dura più a lungo del solito è bene recarsi dal medico per un controllo. La diagnosi precoce si compie attraverso alcuni semplici esami clinici. Vediamo alcuni esempi. Per scoprire alterazioni tumorali all'utero esiste un efficace esame, il PAP test, così chiamato da Papa Nicolau, il biologo che l'ha ideato. Questo esame consiste nel prelevare una piccola quantità di cellule della mucosa uterina e vaginale che poi vengono osservate al microscopio per scoprirne eventuali alterazioni. Il prelievo è del tutto in dolore e può essere fatto in ambulatorio. L'esame è inoltre consigliato una volta ogni due anni in tutte le donne di età superiore a 30 anni. Per quanto riguarda invece il tumore al seno che, contrariamente a quanto si possa pensare, non è un'esclusiva femminile dato che anche i maschi possono svilupparlo, seppur in maniera molto minore, la diagnosi si basa sull'autoesame del seno, che consiste nell'ispezionare manualmente il proprio seno. È una tecnica semplice da eseguire e deve essere praticata a partire dai 30 anni, almeno una volta al mese, di solito una settimana dopo le mestruazioni. I segnali della presenza di un tumore alla mammella sono i più diversi, come la comparsa di noduli o espessimenti, rigonfiamenti, cambiamenti di consistenza, ritrazioni del capezzolo o raggrinzimenti. Ovviamente avvertire un nodulo non significa necessariamente avere un tumore, tuttavia è sempre bene avvertire il medico. Per completare l'esame si consiglia dopo i 25-30 anni un'ecografia al seno. Normalmente un dolore al seno non è un segno preoccupante, prima delle mestruazioni è dovuto agli ormoni del ciclo, altrimenti si tratta quasi sicuramente di un indolenzimento dei muscoli pettorali. Il colon e il retto sono organi molto colpiti dai tumori. I segnali più frequenti sono sanguinamenti e cambiamenti nelle abitudini intestinali. La diagnosi precoce consiste nell'individuazione del sangue occulto nelle feci, cioè tracce di sangue non visibili. Questo si tratta di un semplicissimo controllo che si può fare anche a casa propria. Basta procurarsi in farmacia un apposito cartoncino imbevuto di reattivo e seguire le istruzioni allegate. A questo esame dovrebbero sottoporsi, almeno una volta ogni due anni, tutte le persone di età superiori 45 anni. Per quanto riguarda invece il tumore alla prostata è abbastanza frequente, ma si può individuare precocemente attraverso una semplice visita medica a cui sottoporsi ogni uno o due anni a partire dai 50 anni di età. Facciamo adesso qualche cenno alle terapie. La terapia antitumorale si attua ogni volta che viene individuato un tumore, di qualsiasi dimensione esso sia. Le possibilità di guarigione sono tanto maggiori quanto più esso è piccolo e soprattutto se non si sono ancora originate delle metastasi. Si hanno a disposizione tre differenti tipi di intervento che possono essere impiegati anche contemporaneamente. Un intervento chirurgico che consiste nell'asportare la massa tumorale e, perché l'operazione abbia buon esito, è necessario sacrificare una parte di tessuto sano, togliendolo ovviamente insieme al tumore. Questo affinché si possa essere sicuri di aver tolto ogni possibile infiltrazione di cellule tumorali. L'intervento comprende anche l'asportazione dei vasi linfatici e dei linfonodi, poiché la via linfatica è una importante via di disseminazione delle metastasi. I linfonodi poi saranno esaminati al microscopio per controllare che questi non siano già stati invasi da cellule tumorali. Se il risultato è negativo, si può essere relativamente sicuri che il tumore non si è propagato a distanza. Un altro tipo di intervento è quello radiologico. I raggi X sono in grado di distruggere le cellule in proliferazione, come quelle tumorali, scombinando il loro assetto cromosomico al punto da renderle incapaci di sopravvivere. È quindi possibile indirizzare un sottile fascio di radiazioni sul focolaio tumorale, così da uccidere quante più cellule possibile. L'ultimo tipo di intervento di cui tratteremo è quello farmacologico. Esistono diversi farmaci che esercitano un'azione potente inibente sulla riproduzione cellulare e sono quindi in grado di arrestare e, in certi casi, addirittura far regredire alcuni tipi di tumore. Purtroppo tali sostanze hanno anche avuto grossi inconvenienti. Innanzitutto possiedono degli importanti effetti collaterali, per cui il loro uso deve essere fatto con cautela e, inoltre, a dosi non troppo elevate per non compromettere ulteriormente le condizioni di salute del paziente. Queste sostanze agiscono su tutte le cellule in divisione, senza discriminare tra cellule sane e cellule tumorali, provocando di conseguenza danni anche alle cellule che producono gli elementi del sangue, specialmente a quelle che producono i globuli rossi, provocando così un'anemia. Inoltre, ci saranno danni alle cellule di rivestimento dell'intestino, determinando delle serie di arrei con notevole perdita di liquidi, e altre ancora, tra cui le cellule dei follicoli piliferi, la cui distruzione comporta la perdita dei capelli. Con questo video abbiamo concluso l'ultima parte riguardo i tumori e, in questo modo, si va a concludere la sezione di citologia. Per il momento è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto! Grazie a tutti!